e sappiamo che a breve dovrebbero partire i corsi OSS per sanare molte situazioni rimaste in sospeso però parte anche questo corso TASE per il tecnico animatore socioeducativo e ci sono dei dubbi sull'effettiva valenza e in che modo questa figura poi possa abilitare gli operatori a lavorare nelle strutture sociosanitarie e sanitarie